Toccai il fondo. Sono cattolica ma non praticante. Mi rivolsi a quel Dio presumibile che ritenevo cieco e sordo perché le mie lamentele non sortivano nessun effetto. Si era preso mio padre quando ero giovane e mi avvicinai alla fede leggendo il Nuovo Testamento di cui non capì nulla e mi arresi all'evidenza del nulla. Attraversai anni di depressione. Toccai il fondo e decisi di farla finita. Mi rivolsi al Dio che mi aveva deluso dicendo tu non esisti ed io sono stufa di vivere così. Adesso basta. Mi procurai un infarto. Ero da sola in casa. Nessuno avrebbe potuto salvarmi. Mi ricordo il blackout, un fischio e il buio. Precipitai a velocità pazzesca in un vortice abissale a piedi in giù. Vedevo pareti di pietra, non avevo paura e capì che stavo per toccare il fondo. Tutto sarebbe finito. Invece la discesa rallentò e qualcuno mi riportava su. Mi ritrovai in un luogo fatto di luce calda ed intensa. Sentivo altre presenze accanto a me. Mi penetrò una sensazione incredibile di pace, serenità e amore infinito. Udivo una musica di sottofondo, la percepivo emotivamente e fisicamente. Immersa in quell'ambiente sublime, non mi mossi. Una voce calda, maschile e autorevole, che proveniva dalla luce mi disse «è questo che volevi? E l'hai avuto». All'improvviso mi sono ritrovata nella mia stanza, piangendo, felice, ma poi triste, perché sarei voluta rimanere in quel bagno di pace, che ancora rimpiango. Per settimane ho continuato a sentirmi bene, leggera e forte. Non ho raccontato a nessuno l'accaduto. Questo fatto ebbe conseguenze positive nei mesi a venire. Ogni cosa che desideravo si avverava. Addirittura mi è accaduto di tornare a vivere nel mio paese natio e attraverso dinamiche impensabili nella casa della mia infanzia. Non so che sia Dio, ma adesso so che esiste. E come se esiste? Commento. Pochi hanno un contatto non certo casuale con i piani superiori di esistenza e traggono dall'esperienza uno scatto evolutivo che poi gli permette di materializzare nel piano fisico alcuni desideri già presenti nel loro inconscio.